Il destino ha tessuto il suo incantesimo in una giornata già carica di significato per la nota conduttrice, che oggi, mercoledì 16 agosto, festeggia il suo 32esimo compleanno. Tuttavia, questa volta la celebrazione è impreziosita da un evento ancora più straordinario, la nascita della sua adorabile figlia. La notizia si è diffusa come un incendio sui social media, quando Diletta ha condiviso una serie di tenerissime foto che la ritraggono insieme al compagno Loris Karius, entrambi raggiunti da un sorriso di pura gioia. In queste immagini, la neomamma ha dato il benvenuto a Aria, una dolce creatura destinata a riempire di amore le loro vite. Fin dai primi annunci della gravidanza, Diletta aveva alimentato l'attesa dei fan, rivelando che il presunto giorno del parto avrebbe coinciso proprio con il suo compleanno. E la magia del destino ha esaudito il suo desiderio, regalando loro questa emozionante doppia celebrazione. La loro storia d'amore, raccontata attraverso scatti spontanei e sinceri, ha conquistato il cuore di molti. E ora, con l'arrivo di Aria, un nuovo capitolo si apre per la famiglia. Diletta e Loris si sono trasformati da compagni innamorati in genitori orgogliosi, vivendo un momento di intimità e felicità che condivideranno con il mondo intero. In un mondo in cui le notizie spesso scorrono veloci e sfuggono via, questa giornata resterà sicuramente impressa come un ricordo indelebile nella storia di Diletta Leotta e Loris Carius. Una data che unisce compleanni, emozioni e nuovi inizi, il tutto avvolto da un'aura di dolcezza e amore familiare. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.